LUCACO PIU MARTINEZ Il rigore evidente, succede di tutto tra parete espulsioni, la Juve segna poco in proporzione alle occasioni, il Genoa la manda in crisi poi rigore allo scadere, c'era ma Ronaldo si lascia un po' cadere, Lazovic d'incanto tira fuori un gran gioiello, Lella si riscatta difesa a fiori all'occhiello, Viola di rimonta in evidenza a Castrovilli, Nero Verdi in ballo non possono star tranquilli, il Milan finalmente esce dalla serie buia, Suso lo riporta a far tre punti, alleluia! La Sampdoria proprio non riesce a ripartire, pareggia contro il Lecce in extremis con Ramirez, fa tutto il Bologna, i sardi e i piani alti, la squadra è molto forte sulla carta e con i fatti, Lazio devastante e ancora a doppio giro, Toro adesso è crisi, si invoca in ritiro, 0-4 Roma nonostante il rosso a Fazio, altra gola è Ada per Musso e uno strazio, Flup adesso quarta, bel gioco e risultati, per questa settimana riassunti terminati! Grazie a tutti!